La nostra economia è basata, sì, su prodotti di alta qualità, ma dobbiamo soprattutto guardare a vendere questi prodotti in tutto il mondo e questo è solo possibile se innoviamo, se ci misuriamo con i migliori del mondo e cerchiamo di essere più bravi, più bravi di loro. Come si scopriamo? Abbiamo bisogno più semplice, come si scopriamo? Abbiamo bisogno di più di più di un'attento a un'attento a un'attento. Come si scopriamo? In la prossima, la mobilità non solo è un'attento, ma anche una funzione di energia, Il futuro con questa comunicazione è davvero di data e informazione. Puoi guardare sul tuo telefono e vedere quando è il prossimo bus e il fatto che è tardi, e potrebbe essere meglio camminare un blocco per trovare un bus diverso. Il futuro con la città di Bolzano. Il futuro con la città di Bolzano. Il futuro con la città di Bolzano è la definizione dei stili di vita. L'innovazione è una cosa molto più complicata che va dalla grande innovazione, cioè dall'inventare l'aspirina, all'inventare il mitragliatore. È tutto innovazione. L'innovazione, credo, è per la creazione della nostra società e essenziale. Non solo l'industriale, l'industriale, l'innovazione, ma anche l'ethica, l'innovazione. La città di Bologna è molto importante per aiutare le persone che hanno già fatto, ma per aiutare le persone che hanno già fatto, ma per aiutare le persone che hanno già fatto, per aiutare la loro attività di loro, per aiutare un'attività, accesso a finanziare le capitali, quando hanno bisogno. My talk tonight is going to be very much about my own entrepreneurial journey and then a handful of very simple but powerful I think insights or lessons that I've learned along the way that have helped me not just in my entrepreneurial endeavors but in life. Social innovation is making the world a better place while using structures which actually profitable and self-sustaining. So building businesses that make the world a better place. Das Innovation Festival, ich bin's erste Mal hier, ist eine faszinierende Plattform, wenn man wirklich Innovation wörtlich nimmt. Es ist ein solcher Reichtum an verschiedensten Facetten ganz nah, kennenzulernen was sich draußen tut, was man hier anwenden könnte und ich kann jeden kleinen und auch großen Unternehmen ermutigen, hier ein Teilzunehmen. Sicuramente è molto interessante ed è un'occasione per la città di Bolzano, per la provincia, per le aziende locali di far vedere cosa riescono anche a livello locale a produrre con una visione molto futura, però basandosi su basi concrete. Voglio fare più dots, per le persone conoscere con gli altri, per creare nuovi bisogni e nuovi idee, fantastico. Questo festival è meraviglioso, io sono qui per molti giorni e sono assicurato con la capacità e le capacità delle persone che ho metto. Penso che è fantastico, mi piace essere arrivato a venire a l'altra parte della planetà e metto persone che cuore la stessa cosa che faccio, che hanno un'occasione e un'occasione con un'occasione per il mondo, che c'è un'occasione di cambiamento che bisogna fare, e che è possibile fare questo per l'innovazione e l'entrepreneurazione.